buongiorno buongiornissimo allora 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 ho deciso di rendere queste mini guide molto più veloci molto più rapide molto più alla portata di gente che non ha molto tempo per andare a guardare i champ detto questo ho selezionato a diana e non le ho fatto le rune porca miseria quindi andiamo velocissimi le rune giuste per diana momentaneamente sono le electrocute e il resto va tutto bene electrocute come principale dopodiché impatto improvviso collezione di bulbi dipende da voi se preferite avere più controllo di mappa o collezione di bulbi va benissimo cacciatore supremo no meglio cacciatore famelico ramo secondario quello è sempre situazionale vedete voi poi velocità d'attacco danni armatura o resistenza magica in base alla lane perché si dipende perché sono volte a giocare in giungla come tutti i jungler è sempre meglio giocarla con armor che vi va a proteggere a tutto tonno contro tutti i campi e andiamo a parlare subito della passiva come già detto vorrei rendere tutto ciò molto più veloce molto più rapido molto più specifico per i champ in modo tale da andare subito al punto e potete provarli senza stare a guardare un video di 10 minuti detto questo aumentiamo di livello fino al 6 andiamo a parlare subito dalla passiva diana ottiene un tot di velocità d'attacco che aumenta fino al 70 per cento per tre secondi dopo aver usato un'abilità fine semplice efficace ogni terzo attacco base infligge a nemici ai nemici vicini 72 danni magici bonus andiamo subito a farvela vedere il toccio nemico sblocchiamo un'abilità tac 1 2 3 non si vede e il terzo corpo ha fatto dei danni aggiuntivi che continua così vedete velocità d'attacco 0 83 tiro l'abilità 1.12 semplice nel terzo attacco fa danni potenziati e si vede anche l'animazione intorno all'arma quando appunto può fare l'attacco potenziato la q diana emana un arco di energia lunare come vi ho già fatto vedere che mette sotto visione gli avversari e li marchia e marchia cosa serve andiamo subito a parlare della e parleremo dopo della w la e consuma il marchio ovvero vi faccio vedere tac marchio sulla testa attacco marchio scompare però la e torna subito disponibili lei di base un cooldown molto alto ma se vai a colpire un nemico marchiato torna subito a disposizione infatti quando primi la e diana diventa l'icarazione della luna della vendetta scarta verso il nemico fa un tot di danni magici e se è affetto da dal marchio la ricarica torna subito quindi potresti fare tac tac e usare due volte la e di fila un tempo lei la e era l'ulti e ulti era più o meno ma adesso andiamo a spiegare bene la w cascata cerulea crea uno scuro intorno a te con dei non faccio vedere che si fa prima con queste tre sfere che fanno danno ad aria e se tutte e tre vanno ad esplodere dentro i cinque secondi della durata dell'abilità ti daranno ulteriore scuro scudo della stessa quantità e fine semplice fanno danni magici molto goloso è un buon strumento di ingaggio ed è quello che rende diana un anti assassin parliamo infine dell'ulti attrazione lunare diana tira e rallenta del 40 per cento rivela i nemici vicini per due secondi molto bene questa era quando aveva solo la w cioè quando era scusa era la e diventando l'ulti chiaramente le vai ad aggiungere dei danni se diana colpisce un campione nemico vicino un campione nemico fa poi 211 da fa del danno magico dopo qualche istante ogni altro campione andrà ad aggiungere un tot di danni non un'infinità ma un tot di danni semplice efficace ulti attirato messo sotto visione e danni a seguire se invece file ulti direttamente nel vuoto fine non succede nient'altro easy busy bene siamo andati a parlare di tutte le spell direi che è il momento di provare solo varon perché sì l'ulteriore novità è che non voglio più fare due video che poi vanno a occuparvi le due giornate voglio fare un singolo video per parlarvi nel totale di questo cento siete pronti beh andiamo la build di questo cento non la faremo più per quanto riguarda solo baron la faremo proprio per quanto riguarda il campione stessa allora non è male bildar la concettura razzo estec per andare a sfruttare tutti i suoi scatti vedi come fit come ecco non è neanche male pensare subito a un rabadon si sta snobollando un rabadon chiaramente più calzare del mago va a darti il potenziale di kill e questo va per tutti gli assassin un assassin che snobolla se ap deve prendere rabadon secondo oggetto subito seguito da un bastone nel vuoto tu vuoi fare le kill vuoi continuare a prendere vantaggio non puoi fermarti su un moreno nomico non puoi fermarti su un vero della banshee non devi avere paura devi continuare a buttarglielo in faccia semplice tranquillissimo la zonia dice ma è così safe come item sì vero ma tu se stai snobollando non vuoi essere safe vuoi massacrarvi i tuoi avversari dopo di che se vedi che i nemici stanno recuperando puoi anche pensare a prendere una zonia e non è assolutamente male se direi prendere un bond di rinascio per andare a sfruttare quella che è tutta la luce dell'attacco che questo c'è in realtà nel suo ki andiamo a liberare questi poveri minion che sono rimasti qui a fare a botte e andiamo a vedere potrà diana fare solo baron io credo di sì la portiamo al livello giusto il livello 11 e chiamiamo il baron a raccolta la spell che andrete ammazzare con diana è sempre la q poi poi dipende da voi allora la e non è male la w non è male allora chiaramente dipende dal vostro stile di gioco non c'è molto da dire a me piace tanto ammazzare la v perché mi fa stare più safe ma se state sdobollando è la e la e quella che vorrete andare a ammazzare detto questo 321 via chiaramente voi non siete costretti a usare l'ultimo serviva niente mi ero scordato di questa piccola cosa voi non siete costretti a oh boy cosa volevo dire voi non siete costretti a voi non siete costretti a oddio sono baron con questa b semplice ed efficace voi non siete costretti a oddio non mi ricordo più non siete costretti a prendere la cittura razzo estetica anche l'eco di luden può essere una vostra soluzione perché questo c'è comunque abbastanza mana angry non tantissimo però le q all'inizio vi costeranno davvero tanto rispetto a quanto man avete a disposizione quindi vedete voi volete andare un po più aggressivi volete riuscire a fare qualcosa di più la cittura razzo sicuramente vi aiuta dandovi anche la penetrazione magica volete invece cercare di avere una lane un po più poccante perché magari dall'altra parte siete in counter pic che vedete tipo una aria una sindra un qualcosa che va a fermare il vostro ingaggio nel momento in cui è nato a provarlo di e ecco allora un eco di luden per poccare non dovrebbe essere malissimo detto questo andiamo a vincere la nostra partita andiamo a vincere la nostra partita e io come al solito vi saluto e vi ringrazio forza roma basso questo ci sarà solo video settimana anche perché quando vedrete questo video forse lo saprete già se passate dalla live inizio a lavorare inizio a lavorare seriamente voglio metterci tutto me stesso per fare meglio la mia vita è stato un susseguirsi di cose belle ma anche di fallimenti ragione per cui questa volta non voglio e non posso fallire non me lo concedo quindi un solo video a settimana e grazie mille sono baro e mini guida tutti insieme grazie mille ciao